Disonore! Stasera la Polonia ci ha fatto veramente vedere come si può passare un girone con massimo disonore, una nuova definizione di minimalismo, cioè io capisco che esistono squadre che tecnicamente sono inferiori, che hanno paura di attaccare, hanno paura di aprirsi, di concedere spazi, va bene, allora stanno bassi, che non vogliono neanche giocare con il pressing, no, perché poi si vogliono solamente concentrare sulla fase defensiva, va bene, posso accettare tutto, ma che una squadra gioca solamente per non essere ammunita, solamente per vincere alla fine lo scontro diretto con il Messico attraverso il fair play, perché il Messico stava 2-0 in vantaggio nel secondo tempo e alla fine, poi dopo va bene, la rabbia solida nell'ultimo secondo ha segnato, perché il Messico ovviamente ha buttato tutto in avanti, hanno provato di segnare quest'ultimo gol, però stavano a pari punti, avevano la stessa differenza reti, e in quei minuti caldissimi la Polonia era solamente qualificata grazie a questa regola fair play, che secondo me non ha molto senso, anzi io apprezzo se c'è una squadra che gioca con un po' di grinta, quando c'è una squadra un po' cattiva, certo fair play è importante nel calcio, ma onestamente io il fair play lo divenisco in maniera un po' diversa, ci sono falli cattivi che io non voglio vedere, dove tu rischi l'infortunio dell'avversario, però onestamente un po' di aggressività nel calcio, un po' di cartellini gialli, secondo me fanno parte di questo sport e rendono ancora più bello, l'altra parte capisco ovviamente anche che la FIFA debba mettere dei criteri, perché se no come fai? Se hai pareggiato lo scontro diretto, hai la stessa differenza reti, stesso numero di gol segnati, allora cosa devi fare? Cioè allora devi mettere un criterio, va bene arriva questa roba del fair play, però onestamente puntare solo sul fair play nel secondo tempo è una cosa secondo me senza onore, era una cosa veramente brutta, perciò oggi la Polonia nonostante abbia passato questo girone, secondo me ha fatto veramente una brutta, veramente una brutta figura, che tra l'altro non so neanche se è stato così intelligente applicare questa tattica nel secondo tempo, perché il Messico poteva segnare un altro gol, c'erano delle parate bellissime dal portiere dell'Arabia Saudita, perciò poteva veramente anche andare male, perciò non mi è piaciuta per nulla la Polonia, a parte Cezni, Cezni veramente partita meravigliosa, ma dopo ne parliamo, secondo me minimo, minimo della top 5, cosa addirittura della top 3 dei attuali portieri di questo mondiale, un giocatore mi è particolarmente dispiaciuto per lui, parliamo di Robert Lewandowski, totalmente isolato, tutto solo, sempre in inferietà numerica, quando riceve palloni, cioè corre per 90 minuti solo a vuoto, solo a vuoto, senza toccare, cioè quasi mai ha toccato un pallone, doloroso vedere un campione come lui talmente sprecato, vedere un talento come Robert in queste condizioni, e oggi mi sono reso conto ancora una volta quanto il successo individuale dipende anche dalla fortuna, parliamoci chiaro, C-7 e Messi, forse non giocano nelle nazionali più forti di sempre, però giocano comunque in delle squadre di qualità, cioè il Portugalo quest'anno è una bellissima squadra, l'Argentina non la conto nella top 3, però nel calcio tutto è possibile, però diciamo a livello di singoli vedo altre nazioni ancora più forti, Brasile, Francia, eccetera, però comunque rimane una bella squadra, anche l'Argentina, perciò C-7 e Messi giocano e appartengono alle nazionali di alta qualità, invece se tu sei nato e sei norvegese, ti chiami Erling Haaland, oppure Robert Lewandowski, che gioca per la Polonia, mi dispiace un po' perché partono nella loro carriera subito con un svantaggio, cioè Ronaldo, Messi, altri campioni hanno subito un vantaggio, competitivo che ovviamente può fare la differenza, immaginate un anno dove tutti segnano tantissimi gol con il loro club, ma Messi, che ne so, vince la Coppa del Mondo, oppure Ronaldo diventa il capo canoniere durante la Coppa del Mondo, ovviamente quello ha un peso enorme, e perciò adesso capisco anche ancora di più le lacrime di Lewandowski quando ha segnato il suo primo gol in nazionale, che magari per lui vale molto molto di più, come, che ne so, per un Miroslav Klose che a 2002 ha segnato tre gol contro l'Arabia Saudita, vincendo 8 a 0, cioè avete capito il concetto, mi è veramente dispiaciuto un po' per Robert Lewandowski, perciò è un po' divertente anche questa quasi ultima scena, dove per la prima volta c'era Messi nel dribbling, nell'uno contro uno, proprio contro Robert Lewandowski, e si vedeva che Lewandowski era un po' frustrato, tutta la partita, non tocca mai palloni, non c'entra nulla, sempre in infalità numerica, cioè ogni tanto gli arrivavano palloni, ma era sempre isolato, cioè non salivano altri giocatori, non salivano altri compagni, anche gli esterni rimanevano sempre bassi, sempre baricentro basso, cioè una partita per un attaccante così orrenda, con la consapevolezza che oggi tutte le telecamere erano puntate su di lui, e Messi tutti parlavano di questo duello, di questi due giganti, di questi due grandissimi cannonieri, perciò ovviamente è una partita molto frustrante, perciò un po' divertente vedere che poi Lewandowski con questa frustrazione, in questo ultimo contrasto contro Messi, ha dato veramente la sua vita, l'ha voluto vincere come se fosse un difensore, come se fosse un Mark van Bommel, come se fosse un mediano vecchio stampa, e Messi non l'ha presa bene, e Messi non gli ha più voluto guardare in faccia, secondo me Messi aveva un po' il pensiero, dai cosa vuoi Robert, partita è finita, hai perso 2-0, ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi Robert Lewandowski? Cioè vattene, non fare ste geneggiate, non lo sapete capisco un po' entrambi, in quella situazione, perciò non c'era cattiveria, non c'è bisogno di fare polemiche, poi alla fine abbiamo visto, che i due campioni si sono anche abbracciati, però anche lì ho visto un linguaggio di corpo da parte di Messi, un po' passivo, tipo sì sì va bene, non ti preoccupare, non è successo niente, invece Lewandowski, che aveva bisogno di spiegarsi, di parlare, non lo so, mi è dispiaciuto stasera Lewandowski, stasera Lewandowski ha bisogno di un po' di amore, un po' di calore, perché per un bomber, per un fuoriclasse, per un giocatore fuori dal comune come lui, è stata veramente una serata, una serata bruttissima, e a me ha dato proprio fastidio vedere questa Polonia, è stato quasi irritante, con questo unico scopo di non farsi ammunire nel secondo tempo, di avere paura, di fare un po' di pressing, perché nel pressing poi alla fine tu potresti essere un po' troppo aggressivo, potresti rischiare una ammunizione veramente, veramente deludente, nel primo tempo non ricordo neanche un intervento singolo del portiere, Martínez, il portiere dell'Argentina, finora l'Argentina aveva deluso, in questa Coppa del Mondo, prima partita contro l'Arabia Saudita, molto molto male, seconda partita salvata da Lionel Messi, Lionel Messi da campione, da fuoriclasse, praticamente da solo, si è inventato il gol, oggi abbiamo visto sicuramente la miglior Argentina, ma onestamente non so quanto sia merito dall'Argentina, oppure quanto sia demerito dalla Polonia, devo essere onesto con voi, sono molto curioso di vedere l'Argentina in delle sfide contro squadre, all'altezza contro squadre che vogliono anche un po' giocare a calcio, oppure che vogliono almeno difendere, perché la Polonia non voleva neanche difendere, voleva solo evitare i cartellini gialli, almeno una squadra un po' aggressiva nel pressing, cioè non deve essere una squadra solamente a viso aperto, ogni tanto le squadre basse e aggressive nel pressing, sono anche le squadre più difficili da affrontare, dipende sempre un po' anche dalle caratteristiche, poi dalle squadre, io vi do un esempio, la mia Germania che gioca domani, se dovesse passare il turno, io vi dico che secondo me sarebbe meglio, per caratteristiche della Germania, affrontare il Belgio, o forse anche la Croazia, ma se la Germania dovesse affrontare il Marocco, io la vedo abbastanza difficile, perché il Marocco è proprio una di queste squadre ultra compatte, ma ultra cattive, e ultra rapide nelle transizioni, anche 2014 quando la Germania ha vinto la Coppa del Mondo, la partita dove ha rischiato di più, non era contro i fenomeni del Brasile, non era neanche contro l'Argentina la finale contro Messi, era contro l'Algeria, perché l'Algeria era sempre bassa, e poi giocava con queste transizioni incredibili, non so chi si ricorda, ma era forse la miglior partita che io abbia mai visto di un portiere, Neuer è uscito 5, 6, 7 volte a metà campo, è stato proprio un libero aggiunto, perché per Mertes, il tedesco alto 3 metri, non riusciva più a reggere a campo aperto, e perciò ci può anche stare, che una squadra gioca in basso, che una squadra gioca con il Presley, ci può stare, ma almeno quello lo deve fare, la Polonia non ha fatto nemmeno questo, non ha fatto nemmeno questo, migliore in campo da parte della Polonia, senza dubbi Cezni amici, che secondo me attualmente con, fatemi voi la vostra top 5, io vi butto qui i nomi, senza ranking, cioè non c'è un ordine, vi dico i top 5 secondo me, Cezni sicuramente, Courtois merita di essere in questa lista, Manuel Neuer, ovviamente anche lui, Alisson, e metterei anche Sommer, Sommer è un portiere, spesso un po' sottovalutato, perché è basso, che però a me piace tantissimo, questi secondo me sono i migliori portieri, di questa Coppa del Mondo, ma Cezni attualmente, veramente mostruoso, e tra l'altro, vorrei anche dire una cosa, mi è piaciuto molto, come Adani ha esultato, dopo che Messi ha sbagliato il rigore, è stata proprio un po' una risposta, a tutti che secondo me l'hanno criticato, in maniera eccesiva, parlando di un fanboy, parlando di uno che fa solo il tifo per Messi, che non va bene, perché viene pagato con i contributi, cioè lui deve essere neutrale, mancanza di rispetto, eccetera, io ho visto un Adani, oggi diciamo l'ho sentito, esultare tantissimo, emozionarsi tantissimo, dopo la parata spettacolare di Cezni, ci sta a emozionare, chi ha il calcio nel cuore, e vede un portiere, con una parata del genere, che tiene vivo il suo paese, ovviamente inizia ad emozionarsi, e perciò, secondo me è un po' la conferma, che Adani ha il calcio nel cuore, è un teleconista che vive il calcio, con tantissima passione, e questo secondo me, è una cosa bella, e la mia opinione, io accetto, che poi ci sono persone che dicono, no, io voglio una persona solo razionale, una persona solo calma, così, a me onestamente piace più così, cioè se ci fosse lì un teleconista, che rimane calmissimo, dopo una parata così, a me onestamente non piace, e comunque secondo me, lui ha un po' zittito tutti, perché oggi ho visto che, lui si fa emozionare dalla partita, non solo quando c'è Messi, sicuramente ha anche un po' un debole per Messi, ma ce l'abbiamo tutti, parliamoci di chi ha il calcio nel cuore, ha un debole per Messi, per Ronaldo, per questi grandi campioni, anche per Lewandowski, se avesse segnato Lewandowski, ovviamente avrebbe anche avuto un debole, però l'ha avuto anche per Cesni, in quell'istante, dove Lionel Messi ha sbagliato il rigore, quello che però mi è piaciuto, da parte di Messi, che dopo il rigore, ha reagito molto bene, un ottimo linguaggio di corpo, non ha mollato, anzi subito insistito, questo è stato ottimo, dall'altra parte devo dire, che Messi non è un rigorista eccellente, se veniamo un po' alle statistiche, 106 rigori segnati, 31 rigori sbagliati, esistono sicuramente migliori giocatori dal dischetto, e questo conferma ancora una volta, che il rigorista deve essere soprattutto forte, con i piedi, ma con la testa, perché sicuramente nessun giocatore al mondo, attualmente, non mi viene in mente nessuno, ha un piede talmente educato, come Lionel Messi, questo piede sinistro è meraviglioso, può fare dei cambi di gioco, di 50 metri, che altri rigoristi, non potranno mai fare, ma poi da 11 metri, non riesce ad essere, talmente preciso, come magari lo riesce ad essere, su 40 metri, questo cosa ci dice, ci dice ovviamente, la testa, la testa è fondamentale, nei rigori, l'esempio migliore era sempre David Beckham, io mi ricordo David Beckham, era il migliore con le punizioni, con il calcio d'angolo, una precisione incredibile, ma poi dal dischetto, con la nazionale inglese, ha anche sbagliato, in uno europeo, un rigore, un rigore tremendo, era un po' il tipico inglese, gli inglesi storicamente, in generale, hanno sempre fatto fatica, con i rigori, non dico che Messi sia scarso dal dischetto, dico solamente, vedendo un po' le statistiche, che esistono giocatori più forti, ma questo non è per disprezzare Messi, Messi ha talmente tante qualità, anche oggi ha giocato talmente, tanti passaggi finali, dove potevano arrivare poi dei rigori, non sono arrivati, scusate, potevano arrivare poi dei gol, non sono arrivati, ma sono comunque stati sempre gli ultimi passaggi, a un occhio, a una lettura, movimenti pazzeschi, a me è piaciuto molto, perciò non è per sminuirlo, però è un dato di fatto, che dal dischetto ci sono sicuramente giocatori, ancora più cinici, ancora più cattivi, comunque la Polonia ha rischiato tantissimo, è Kivio, retropassaggio, al 92esimo minuto, Lautaro che lo va ad intercettare, il Toro poi solo davanti alla porta, e non colpisce bene il pallone, non riesce a segnare, veramente male la Polonia, veramente, veramente male, è la cosa più bella, siccome oggi è stato ancora una volta il tifo, il tifo è veramente da prendere come ispirazione, devo dire che a livello di club, in Europa, non ci dobbiamo nascondere, lo dico anche da tedesco, in Germania sono delle tifoserie bellissime, da amanti dell'Italia, in Italia tantissime tifoserie, anche stupende, coreografie, forse le più belle del mondo, in Italia, i derby di Milano, tutte queste cose, però a livello nazionale, è un'altra categoria, Sud America, devo dirlo, veramente, sembrano, tutti i tifosi sembrano dei ultras, cioè tutti in piedi, e quello è sempre stato un po' il mio song, anche io, quando vado allo stadio, vedo sempre che nel settore dove c'è il tifo organizzato, sono tutti in piedi a cantare, invece negli altri settori, se ti alzi, quasi la gente inizia ad arrabbiarsi, invece, quando c'è l'Argentina, quando gioca l'Argentina, tutto lo stadio in piedi, sembrano tutti ultras, c'è un tifo meraviglioso, c'è un tifo che ti fa proprio arrivare la pelle d'oca, e devo dire, per esempio, la mia Germania, a livello di club, tifoserie che fanno paura, che sono stupende, che fanno proprio tremare tutto lo stadio, Borussia Dortmund, Dynamo Tristan, tantissime, in generale nel Ruopo, fanno veramente paura, invece, in un gioco nazionale, nulla, in nulla totale, proprio non c'è tifo, non c'è tifo, e perciò, le ho rete complimenti all'Argentina, e questo può anche essere un vantaggio, quando ci sono delle partite strette, quando ci sono delle partite combattute, quando hai questo entusiasmo allo stadio, questo orgoglio, questa energia, che ti può proprio trascinare, e giochi, che ne sono magari, dentro la Germania, che a livello, ripeto, di nazionale, non ha tifo, può essere un vantaggio, può assolutamente essere un vantaggio, e perciò, complimenti agli argentini, che in questa maniera, fanno assolutamente il bene, della loro, della loro nazionale, che oggi, ha vinto, in maniera assolutamente meritata, provo anche il mister, che ha inciso, che è riuscito, aveva un impatto, dopo le prestazioni, un po' dell'odenti, con quattro cambi decisivi, quattro cambi funzionali, e adesso amici, fatemi sapere un po', la vostra opinione, sotto i commenti, tra l'altro, Messi oggi, con 22 partite, ha superato Maradona, è la cosa, cosa un po' incredibile, quando uno sente questi record, io quasi ogni settimana, sento un nuovo record, di Messi o Cristiano Valle, ogni settimana, leggo, ah, un nuovo record, un nuovo record storico, tutti i record storici, e diventa talmente normalità, che uno dice, vabbè, niente di speciale, una partita in più di Maradona, no amici, è molto speciale, è molto speciale, non è normale, ogni settimana, di raggiungere nuovi record, perciò, sono veramente fuori, del comune, veramente, tanto tanto rispetto, per i campioni, un abbraccio a tutti amici, fatemi sapere la vostra opinione, sotto i commenti, e domani, giornata caldissima, domani non mi vedrete così calmi, quando gioca, la mia Germania, sapete, con quanti emozioni, vivo quella partita, quelle partite, quando c'è l'Italia, quando c'è la Germania, perciò domani, vi voglio tutti qui sul canale, auf geht's Deutschland! chant! chè!